Sì, e anche questa non è il ricordo finanziata da sky, comunque le emozioni sono sempre forti Perché siamo in HD In alta definizione ragazzi, ancora mezza definizione, non completa, però è ancora 720p Però quando arriverà a 1080p la faremo anche a 1080p Ora però rigoroso silenzio come dice il cartello Miracca, rigoroso silenzio C'è questa scalinata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.